I verdetti del weekend di volley precedente la sosta pasquale spiccava il derby di Serie C, girone A, tra RS Pavic e San Maborgo. Ha vinto la squadra di coach Maurizio Conti che ha chiuso con finale sull'1-3, parziali 22-25, 22-25, 25-21, 24-26, anche se le sesiane di coach Andrea Cova hanno fatto il loro. Nel girone B arriva una sconfitta per Moca Vittorosa al Palamanzini contro la capolista Lilliput VII, set chiusi 21-25, 25-22, 12-25, 18-25 per l'1-3 finale. Bella prestazione di Verbania, spesso alla pari con la prima in classifica, che però ne ha avuto ovviamente di più ed ha vinto la partita, applaudendo l'avversario. Sara Palavolomegna invece ha perso a Rivarolo Canavesene, nero-verdi canavesane, chiudono 3-0, decretato dai parziali 25-10, 25-22, 25-18, in casa Omegna si parla di riflessioni. Nella cima schile alla palestra Vigone di Torino, camping Isolino Alziora, decisamente incerottata, ha perso contro San Paolo, finale 3-0, parziali 25-19, 25-18, 25-17, per nulla contento coach Matteo Azzini. Laicaron Apavica ha vinto in casa contro Azimut Valsusa, finale sul 3-1, parziali 25-17, 25-21, 12-25, 25-15. Una vittoria che fa bene, se non per la classifica, che lascia aperte ancora piccole e difficili speranze di qualificazione e play-out, almeno per il morale. Infine, in serie di maschile, una bella pediacoppa H24 di Omodossola vinto al Palaraccagni contro M. Apotel Biella, parziali 25-18, 25-23, 25-21, per il 3-0 finale, che mantiene gli Ossolani primi, con 4 punti su volle in Ovara, a due giornate dal termine della regular season.